Il nostro numero 2 è Emma che ci porta Ganondorf da Hyrule Warriors. Un applauso signori, avanti! Un applauso signori, avanti! Un applauso signori, avanti! Che bello! Allora, sei stupendo! Prego, avvicinati leggermente al bordo palco senza ucciderti! Ti è possibile parlare o...? Ah ok, ti è possibile parlare! Allora, facciamo qualche piccola domanda su tutto questo meraviglioso... Insomma, l'armatura, la scenetta, tutto! Hai fatto tu l'armatura? Eh, sì e no, perché questa armatura qua ce l'ho dal 2015 e ho un ragazzo molto bravo a realizzare proprio vicino a casa mia e siccome appunto eravamo vicini ogni tanto andavo là, aiutavo lui a lavorarci, lavoravo un po' lui, lavoravo un po' io e in due mesi è nata praticamente! Perfetto, una congo micidiale perché è un lavoro fantastico! Ragazzi, un altro applauso! Bellissimo! Applauso a Ema! Questi sono veramente bravi! E noi ti salutiamo e ti ringraziamo! Se vuoi più tardi puoi farti guardare un attimo ancora dalla giuria! Grazie ancora! Perfetto!